Sono candidata con una lista civica sostenuta dal terzo polo. La mia proposta è una proposta che va al di là delle ideologie. In questo momento abbiamo un centrodestra che è molto schiacciato sulla destra, un centrosinistra molto schiacciato sulla sinistra. La mia è una proposta nuova e che guarda anche a quegli elettori che non si ritrovano, e lo dico con grande rispetto, nei partiti nella proposta politica attuale. È una proposta concreta, mira a risolvere situazioni. È una proposta che non ha nulla a che vedere con tematiche ideologiche. È una proposta che ci aiuta a uscire da quelle gabbie ideologiche che non servono più a niente. Non è che la sicurezza sia di destra e l'ambiente sia di sinistra. La sicurezza è per tutti e l'ambiente è per tutti. Quindi basta questa ideologia, andiamo avanti invece per dare le risposte ai bisogni dei cittadini. Grazie per la visione!